Serena Bortone fa irruzione a un addio al celibato, le immagini. La conduttrice ha festeggiato insieme a un gruppo di ragazzi incontrati a San Benedetto del Tronto. Ha un addio al celibato, si sa, può accadere di tutto. Nessuno però immaginerebbe mai di trovarsi come ospite, a sorpresa, Serena Bortone. È accaduto a San Benedetto del Tronto, dove la conduttrice si trovava in questi giorni per presentare il suo libro a te vicino così dolce. A raccontarlo, con tanto di testimonianze fotografiche, è proprio lei su Instagram. San Benedetto del Tronto è piena di addio al nubilato e io, come al solito. Non mi sono fatta gli affari miei. Giovanni e Andrea, vi ho detto che vi avrei taggato e io sono donna di parola. Auguri agli sposi e alle spose e a chi mai si sposerà. Prossimamente gli aggiornamenti sulle magnifiche e affollatissime presentazioni di a te vicino così dolce. Negli scatti condivisi, Serena Bortone si diverte insieme ai ragazzi e non resiste davanti alla scritta sulle t-shirt indossate da tutti. Io sono il testimone, o l'amico, del coglio.Ni che si sposa. Fare un addio al celibato e avere la foto con Serena Bortone non è da tutti. Fortunati loro commenta una follower. Chissà se seguirà un invito al matrimonio.